Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia e studio Monica Pelliccia. Apriamo con la FIPILI possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina per lavori di messa in sicurezza del viadotto del Turbone. Sempre per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul resto della rete stradale, autostradale e toscana il traffico scorre in maniera regolare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori, tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Prima di salutarci segnaliamo che per domani 10 febbraio la protezione civile ha emesso un'allerta con codice giallo per vento sull'area della Romagna Toscana. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!